Fate come tutti quelli che hanno già partecipato al nostro Tarant Show Loro hanno registrato e adesso sono in giro a far conoscere la vostra musica Volete farlo anche voi? Beh, ok Quando vuoi Cari amici, siete dei solisti? Avete una band? Volete far conoscere la vostra musica? Ebbene, fate come tutte quelle persone che hanno già fatto sto cazzo Avete voglia di far conoscere la vostra musica? Ebbene, fate come tutte le persone che già... che sono già state... Marco Tinci Ce la facciamo? Tutte le band Fate come tutte le band che già sono state nei nostri studi Hanno realizzato un video e adesso sono in giro a far promozione A far conoscere quello che sanno fare Volete farlo anche voi? È semplice Su YouTube vedete quello che abbiamo realizzato No, vedete Guardate Guardate quello che abbiamo realizzato E adesso sono in giro a fare promozione Volete fare anche voi come loro? Cercate su... Cercateci sul canale YouTube Max Devil Special One Max Devil Special One è un format che vi aiuta Special One è un format che vi aiuta Unico Un format unico che vi aiuta Special One è un forma un... forma Bene Dovevo farla veloce È poco che ti sei alzata eh Sì, si vede No, per vincarti Vado Anche voi come loro? Allora cercateci su YouTube Guardate i nostri video Li trovate sul canale Special One Max Devil Vi aspettiamo Se non ti grattavi neanche era meglio Erco Giuda 107esima Prima Prima Prima